Dagli appennini alle ande, racconto mensile. Molti anni fa un ragazzo genovese di 13 anni, figliuolo di un operaio, andò da Genova in America solo per cercare sua madre. Sua madre era andata due anni prima a Buenos Aires, città capitale della Repubblica Argentina, per mettersi al servizio di qualche casa ricca e guadagnar così in poco tempo tanto da rialzare la famiglia la quale, per effetto di varie disgrazie, era caduta nella povertà e nei debiti. Non sono poche le donne coraggiose che fanno un così lungo viaggio con quello scopo e che, grazie alle grandi paghe che trova laggiù la gente di servizio, ritornano in patria a capo di pochi anni con qualche migliaio di lire. La povera madre aveva pianto lacrime di sangue al separarsi dai suoi figliuoli l'uno di 18 anni e l'altro di 11, ma era partita con coraggio e piena di speranza. Il viaggio era stato felice. Arrivata appena a Buenos Aires, aveva trovato subito, per mezzo di un bottegaio genovese cugino di suo marito stabilito là da molto tempo, una buona famiglia argentina che la pagava molto e la trattava bene. E per un po' di tempo aveva mantenuto coi suoi una corrispondenza regolare. Come era stato convenuto fra loro, il marito dirigeva le lettere al cugino che le recapitava alla donna e questa rimetteva le risposte a lui che le spediva a Genova aggiungendovi qualche riga di suo. Guadagnando tanta lire al mese e non spendendo nulla per sé, mandava a casa una bella somma con la quale il marito, che era galantuomo, andava pagando via via i debiti più urgenti e riguadagnando così la sua buona reputazione. E intanto lavorava ed era contento dei fatti suoi, anche per la speranza che la moglie sarebbe ritornata fra non molto tempo, perché la casa pareva vuota senza di lei e il figliuolo minore, in special modo che amava moltissimo sua madre, si rattristava, non si poteva rassegnare alla sua lontananza. Ma trascorso un anno dalla partenza, dopo una lettera breve nella quale essa diceva di star poco bene e di salute, non ne ricevettero più. Scrissero due volte al cugino, il cugino non rispose. Scrissero alla famiglia argentina dove la donna era a servire, ma non essendo forse arrivata la lettera per chi aveva instorpiato il nome sull'indirizzo, non ebbero risposta. Temendo una disgrazia, scrissero al consolato italiano di Buenos Aires che facesse fare delle ricerche e, dopo tre mesi, fu risposto loro dal console che, nonostante l'avviso fatto pubblicare dai giornali, nessuno si era presentato neppure a dare notizie. E non poteva accadere altrimenti, oltre che per altre ragioni e anche per questa, che con l'idea di salvare il decoro dei suoi, che le pareva di macchiarlo a farla serva, la buona donna non aveva dato alla famiglia argentina il suo vero nome. Altri mesi passarono nessuna notizia. Padre e figliuoli erano costernati. Il più piccolo, oppresso da una tristezza che non poteva vincere. Che fare? A che ricorrere? La prima idea del padre era stata di partire da andare a cercare sua moglie in America, ma è il lavoro? Chi avrebbe mantenuto i suoi figliuoli? E neppure avrebbe potuto partire il figliuol maggiore che cominciava appunto allora a guadagnare qualche cosa ed era necessario alla famiglia. E in questo affanno vivevano ripetendo ogni giorno gli stessi discorsi dolorosi o guardandosi l'un l'altro in silenzio. Quando una sera Marco, il più piccolo, uscì a dire risolutamente Ci vado io in America a cercare mia madre? Il padre crollò il capo con tristezza e non rispose. Era un pensiero affettuoso, ma una cosa impossibile. A tredici anni solo fare un viaggio in America che ci voleva un mese ad andarci. Ma il ragazzo insistette pazientemente, insistette quel giorno, il giorno dopo, tutti i giorni, con una grande pacatezza, ragionando col buon senso di un uomo. Altri ci sono andati, diceva, e più piccoli di me. Una volta che son sul bastimento, arrivo là come un altro. Arrivato là, non ho che a cercare la bottega del cugino. Ci son tanti italiani, qualche d'uno mi insegnerà la strada. Trovato il cugino, è trovata mia madre. E se non trovo lui, vado dal console, cercherò la famiglia argentina. Qualunque cosa accada, laggiù c'è del lavoro per tutti. Troverò del lavoro anch'io, almeno per guadagnare tanto da ritornare a casa. E così, a poco a poco, riuscì quasi a persuadere suo padre. Suo padre lo stimava, sapeva che aveva giudizio e coraggio, che era a suo effatto alle privazioni e ai sacrifizi, e che tutte queste buone qualità avrebbero preso doppia forza nel suo cuore per quel santo scopo di trovare sua madre, che egli adorava. Si aggiunse pure che un comandante di piroscafo, amico di un suo conoscente, avendo inteso parlare della cosa, si impegnò di fargli avere gratis un biglietto di terza classe per l'argentina. E allora, dopo un altro po' di esitazione, il padre acconsentì. Il viaggio fu deciso. Gli impirono una sacca di panni, gli misero in tasca qualche scudo, gli diedero l'indirizzo del cugino, e una bella sera del mese d'aprile, lo imbarcarono. Figliuolo Marco mio, gli disse il padre, dandogli l'ultimo bacio, con le lacrime agli occhi sopra la scala del piroscafo che stava per partire, fatti coraggio, parti per un santo fine e Dio t'aiuterà. Povero Marco. Egli aveva il cuor forte e preparato anche alle più dure prove per quel viaggio, ma, quando vide sparire all'orizzonte la sua bella Genova, e si trovò in alto mare su quel grande piroscafo, affollato di contadini emigranti, solo, non conosciuto da alcuno, con quella piccola sacca che racchiudeva tutta la sua fortuna, un improvviso scoraggiamento lo assalì. Per due giorni stette accucciato come un cane a prua, non mangiando quasi, oppresso da un gran bisogno di piangere. Ogni sorta di tristi pensieri gli passavano per la mente, e il più triste, il più terribile, era il più ostinato a tornare, il pensiero che sua madre fosse morta. Nei suoi sonni rotti e penosi, egli vedeva sempre la faccia ad uno sconosciuto che lo guardava in aria di compassione, e poi gli diceva all'orecchio, tua madre è morta. E allora si svegliava, soffocando un grido. Non di meno, passato lo stretto di Gibilterra, alla prima vista dell'oceano Atlantico riprese un poco d'animo e di speranza, ma fu un breve sollievo. Quell'immenso mare sempre uguale, il calore crescente, la tristezza di tutta quella povera gente che lo circondava, il sentimento della propria solitudine tornarono a buttarlo giù. I giorni che si succedevano vuoti e monotoni, gli si confondevano alla memoria come accade ai malati. Gli pareva di essere in mare da un anno, e ogni mattina, svegliandosi, provava un nuovo stupore di essere là solo, in mezzo a quell'immensità d'acqua in viaggio per l'America. I bei pesci volanti che venivano ogni tanto a cascare sul bastimento, quei meravigliosi tramonti dei tropici, con quelle enormi nuvole color di bragia e di sangue, e quelle fosforescenze notturne che fanno parer l'oceano tutto acceso come un mare di lava, non gli facevano l'effetto di cose reali, ma di prodigi veduti in sogno. Ebbe delle giornate di cattivo tempo, durante le quali restò chiuso continuamente nel dormitorio, dove tutto ballava e rovinava in mezzo a un coro spaventevole di lamenti e di imprecazioni, e credette che fosse giunta la sua ultima ora. Ebbe altre giornate di mare quieto e giallastro, di caldura insopportabile, di noia infinita, ore interminabili e sinistre, durante le quali i passeggeri spossati, distesi immobili sulle tavole parevano tutti morti, e il viaggio non finiva mai, mare e cielo, cielo e mare, oggi come ieri, domani come oggi, ancora, sempre, eternamente, ed egli per lunghe ore stava appoggiato al parapetto a guardare il mare senza fine, sbalordito, pensando vagamente a sua madre, finché gli occhi gli si richiudevano e il capo gli cascava dal sonno. E allora rivedeva quella faccia sconosciuta che lo guardava in aria di pietà, e gli ripeteva all'orecchio, tua madre è morta, e a quella voce si risvegliava in sussulto per ricominciare a sognare a occhi aperti e a guardare l'orizzonte immutato. Ventisette giorni durò il viaggio, ma gli ultimi furono i migliori, il tempo era bello e l'aria fresca, egli aveva fatto conoscenza con un buon vecchio lombardo che andava in America a trovare il figliuolo, coltivatore di terra vicino alla città di Rosario. Gli aveva detto tutto di casa sua, e il vecchio gli ripeteva ogni tanto, battendogli una mano sulla nuca, coraggio vagai, tu troverai tua madre sana e contenta. Quella compagnia lo riconfortava, i suoi presentimenti saranno fatti da tristi lieti. Seduto a prua, accanto al vecchio contadino che fumava la pipa, sotto un bel cielo stellato in mezzo a gruppi di migranti che cantavano, egli si rappresentava cento volte al pensiero il suo arrivo a Buenos Aires. Si vedeva in quella certa strada, trovava la bottega, si lanciava incontro al cugino. Come sta mia madre? Dov'è? Andiamo subito. Andiamo subito. Correvano insieme, salivano una scala, s'apriva una porta. E qui il suo soliloquio muto s'arrestava. La sua immaginazione si perdeva in un sentimento di inesprimibile tenerezza che gli faceva tirar fuori di nascosto una piccola medaglia che portava al collo e mormorare baciandola le sue orazioni. Il ventisettesimo giorno dopo quella partenza arrivarono. Era una bella aurora rossa di maggio, quando il piroscofo gittava l'ancora nell'immenso fiume della Plata, sopra una riva del quale si stende la vasta città di Buenos Aires, capitale della Repubblica Argentina. Quel tempo splendido gli parve di buon augurio. Era fuori di sé dalla gioia e dall'impazienza. Sua madre era a poche miglia di distanza da lui. Tra poche ore l'avrebbe veduta, ed egli si trovava in America, nel nuovo mondo, e aveva avuto l'ardimento di venirci solo. Tutto quel lunghissimo viaggio gli pareva allora che fosse passato in un nulla. Gli pareva ad aver volato sognando e di essersi svegliato in quel punto, ed era così felice che quasi non si stupì né si afflisse, quando si frugò nelle tasche e non ci trovò più uno dei due gruzzoli, in cui aveva diviso il suo piccolo tesoro per essere più sicuro di non perdere tutto. Gli l'aveva rubato, non gli restavano più che poche lire, ma che gli importava ora che era vicino a sua madre. Con la sua sacca alla mano scese insieme a molti altri italiani in un vaporino che li portò fino a poca distanza dalla riva. Calò dal vaporino in una barca che portava il nome di Andrea Doria, fu sbarcato al molo, salutò il suo vecchio amico Lombardo e s'avviò a lunghi passi verso la città. Arrivato all'imboccatura della prima via, fermò un uomo che passava e lo pregò di indicargli da che parte dovesse prendere per andare in via dello Sartes. Aveva fermato per l'appunto un operaio italiano. Questi lo guardò con curiosità e gli domandò se sapeva leggere. Il ragazzo accennò di sì. Ebbene, gli disse l'operaio indicandogli la via da cui egli usciva, va su sempre diritto, leggendo i nomi delle vie a tutte le cantonate, finirai con trovare la tua. Il ragazzo lo ringraziò e infilò la via che gli si apriva davanti. Era una via diritta e sterminata, ma stretta, fiancheggiata da case basse e bianche che parevano tanti villini, piena di gente, di carrozze, di grandi carri che facevano uno strepito assordante, qua e là spenzolavano enormi bandiere di vari colori, con scritto a grossi caratteri l'annunzio di partenze di piroscafi per città sconosciute. A ogni tratto di cammino, volgendosi a destra e a sinistra, egli vedeva due altre vie che fuggivano diritte a perdita d'occhio, fiancheggiate pure da case basse e bianche e piene di gente e di carri e tagliate in fondo dalla linea diritta della sconfinata pianura americana, simile all'orizzonte del mare. La città gli pareva infinita, gli pareva che si potesse camminare per giornate e per settimane, vedendo sempre di qua e di là altre vie come quelle che tutta l'America ne dovesse essere coperta. Guardava attentamente i nomi delle vie e dei nomi strani che stentava a leggere. A ogni nuova via si sentiva battere il cuore pensando che fosse la sua, guardava a tutte le donne con l'idea di incontrare sua madre, ne vide una davanti a sé che gli diede una scossa al sangue, la raggiunse, la guardò, era una negra e andava, andava affrettando il passo, arrivò a un crocicchio, lesse e restò come inchiodato sul marciapiede, era la via delle arti. Svoltò, vide il numero 117, la bottega del cugino era il numero 175. Affrettò ancora il passo, correva quasi, al numero 171 dovette fermarsi per riprendere il respiro e disse tra sé, oh madre mia, madre mia, è proprio vero che ti vedrò a momenti. corse innanzi, arrivò a una piccola bottega di merciaio, era quella, s'affacciò, vide una donna coi capelli grigi e gli occhiali. Che volete ragazzo, gli domandò quella in spagnolo. Non è questa, disse il ragazzo stentando a mettere fuori la voce la bottega di Francesco Merelli? Francesco Merelli è morto, rispose la donna in italiano. Il ragazzo ebbe l'impressione di una cossa nel petto. Quando è morto? Eh, da un pezzo, rispose la donna, da mesi. Fece cattivi affari, scappò. Dicono che sia andato a Baia Blanca, molto lontano di qui, e morì appena arrivato. La bottega è mia. Il ragazzo impallidì. Poi disse rapidamente. Merelli conosceva mia madre, mia madre era qua a servire, dal signor Mekines. Egli solo poteva dirmi dov'era. Io son venuto in America a cercare mia madre. Merelli le mandava le lettere. Io ho bisogno di trovare mia madre. Povero figliuolo, rispose la donna. Io non so. Posso domandare al ragazzo del cortile. Egli conosceva il giovine che faceva commissioni per Merelli. Può darsi che sappia dir qualche cosa. Andò in fondo alla bottega e chiamò il ragazzo, che venne subito. Dimmi un poco, gli domandò la bottegaia. Ti ricordi che il giovane di Merelli andasse qualche volta a portare le lettere a una donna di servizio in casa di figli del paese. Dal signor Mekines, rispose il ragazzo. Sì, signora, qualche volta. In fondo a Via delle Arti. Ah, signora, grazie, gridò Marco. Mi dica il numero. Non lo sa. Mi faccio accompagnare. Accompagnami tu subito, ragazzo. Io ho ancora dei soldi. E disse questo con tanto calore, che senza aspettare la preghiera della donna, il ragazzo rispose. Andiamo. E uscì per primo, a passi lesti. Quasi correndo, senza dire una parola, andarono fino in fondo alla via lunghissima, infilarono l'andito d'entrata ad una piccola casa bianca e si fermarono davanti a un bel cancelletto di ferro da cui si vedeva un cortiletto pieno di vasi di fiori. Marco diede una strappata al campanello. Comparve una signorina. Qui sta la famiglia a Mechines. Non è vero, domandò ansiosamente il ragazzo. Ci stava, rispose la signorina, pronunziando l'italiano alla spagnola. Ora ci siamo noi, Sebaglios. E dove sono andati Mechines? domandò Marco col batticuore. Sono andati a Cordova. Cordova, esclamò Marco. Dov'è Cordova? È la persona di servizio che avevano. La donna, mia madre. La donna di servizio era mia madre. Hanno condotta via anche mia madre. La signorina lo guardò e disse, non so, lo saprà forse mio padre che li ha conosciuti quando partirono. Aspettate un momento. Scappò e tornò poco dopo con suo padre, un signore alto, con la barba grigia. Questi guardò fisso un momento quel tipo simpatico di piccolo marinaio genovese, coi capelli biondi e il naso aquilino, e gli domandò in cattivo italiano. Tua madre è genovese? Marco rispose di sì. Ebbene, la donna di servizio genovese è andata con loro, lo so di certo. E dove sono andati? A Cordova, una città. Il ragazzo mise un sospiro, poi disse con rassegnazione. Allora andrò a Cordova. Ah, povere nigno! esclamò il signore, guardandolo in aria di pietà. Povero ragazzo! È a centinaia di miglia da qua, Cordova! Marco diventò pallido come un morto e si appoggiò con una mano alla cancellata. Vediamo, vediamo, disse allora il signore, mosso a compassione, aprendo la porta. Vieni dentro un momento. Vediamo un po' se si può fare qualche cosa. Sedette, gli diede a sedere, gli fece raccontare la sua storia. Lo stette a sentire molto attento. Rimase un pezzo pensieroso, poi gli disse risolutamente. Tu non hai denari, non è vero? Ho ancora poco, rispose Marco. Il signore pensò altri cinque minuti e poi si mise a un tavolino, scrisse una lettera, la chiuse e porgendela al ragazzo gli disse senti, italianito, va con questa lettera alla bocca. È una piccola città mezza genovese a due ore di strada di qua. Tutti ti sapranno indicare il cammino. Va là e cerca di questo signore a cui è diretta la lettera e che è conosciuto da tutti. Portagli questa lettera. Egli ti farà partire domani per la città di Rosario e ti raccomanderà a qualcuno lassù che penserà a farti proseguire il viaggio fino a Cordova, dove troverai la famiglia Mechines e tua madre. Intanto piglia questo. Egli mise in mano qualche lira. Va e fatti coraggio. Qui hai dappertutto dei compaesani. Non rimarrai abbandonato. Adios. Il ragazzo gli disse, grazie, senza trovare altre parole, uscì con la sua sacca e congedatosi dalla sua piccola guida si mise lentamente in cammino verso la bocca, pieno di tristezza e di stupore, attraverso quella grande città rumorosa. Tutto quello che gli accade da quel momento fino alla sera del giorno appresso gli rimase poi nella memoria confuso ed incerto come una fantasticheria di febbricitante, tanto egli era stanco, sconturbato, avvilito. E il giorno appresso, all'imbrunire dopo aver dormito la notte in una stanzuccia ad una casa della bocca, accanto a un facchino del porto, dopo aver passata quasi tutta la giornata seduto sopra un mucchio di travi e come trasognato in faccia migliaia di vastimenti di barconi e di vaporini, si trovava a poppa di una grossa barca a vela carica di frutta, che partiva per la città di Rosario, condotta da tre robusti genovesi abbronzati dal sole, la voce dei quali, e il dialetto amato che parlavano, gli rimise un po' di conforto nel cuore. Partirono, e il viaggio durò tre giorni e quattro notti, e fu uno stupore continuo per il piccolo viaggiatore, tre giorni e quattro notti su per quel meraviglioso fiume, Paranà, rispetto al quale il nostro grande po' non è che un rigagnolo, e la lunghezza dell'Italia quadruplicata non raggiunge quella del suo corso. Il barcone andava lentamente a ritroso di quella massa d'acqua smisurata, passava in mezzo a lunghe isole, già nidi di serpenti e di tigri, coperte da ranci e di salici simili a boschi galleggianti, e ora infilava a stretti canali, da cui pareva che non potesse più uscire, e ora sboccava in vaste distese d'acque dell'aspetto di grandi laghi, tranquilli, poi da capo, fra le isole, per i canali intricati di un arcipelago in mezzo a mucchi enormi di vegetazione, regnava un silenzio profondo. Per lunghi tratti, le rive e le acque solitarie e vastissime davan l'immagine di un fiume sconosciuto in cui quella povera vela fosse la prima al mondo ad avventurarsi. Quanto più s'avanzavano e tanto più quel mostruoso fiume lo sgomentava. Egli immaginava che sua madre si trovasse alle sorgenti e che la navigazione dovesse durare degli anni. Due volte al giorno mangiava un po' di pane e di carne salata coi barcaiuoli, i quali, vedendolo triste, non gli rivolgeva mai la parola. La notte dormiva sopra coperta e si svegliava ogni tanto, bruscamente, stupito dalla luce limpidissima della luna che imbiancava le acque immense e le rive lontane, e allora il cuore gli si serrava a Cordova. Egli ripeteva quel nome Cordova come il nome di una di quelle città misteriose delle quali aveva inteso parlare nelle favole. Ma poi pensava. Mia madre è passata di qui, ha visto queste isole, queste rive, e allora non gli parevano più tanto strani e solitari quei luoghi in cui lo sguardo di sua madre si era posato. La notte uno dei barcaiuoli cantava quella voce e gli rammentava le canzoni di sua madre quando lo addormentava bambino. L'ultima notte all'udir quel canto si inghiozzò. Il barcaiuolo si interruppe. Poi gli gridò, animo, animo, figio! Che diavolo un genovese che piange perché è lontano da casa! I genovesi girano il mondo gloriosi e trionfanti! E a quelle parole egli si riscosse, sentì la voce del sangue genovese e rialzò la fronte con alterezza, battendo il pugno sul timone. Ebbene sì, disse tra sé, dovessi anch'io girare tutto il mondo, viaggiare ancora per anni e anni e fare delle centinaia di miglia a piedi, io andrò avanti finché troverò mia madre. Dovessi arrivare moribondo e cascar morto ai suoi piedi, purché io la riveda una volta. Coraggio! E con quest'animo arrivò allo spuntardo un mattino rosato e freddo di fronte alla città di Rosario, posta sulla riva alta del Paranà, dove si specchiava nelle acque le antenne imbandierate di cento bastimenti d'ogni paese. Poco dopo sbarcato, salì alla città con la sua sacca alla mano a cercare un signore argentino, per cui il suo protettore della bocca gli aveva rimesso un biglietto di visita con qualche parola di raccomandazione. Entrando in Rosario, gli parve d'entrare in una città già conosciuta. Erano quelle vie interminabili, dritte, fiancheggiate di case basse e bianche, attraversate in tutte le direzioni al di sopra dei tetti da grandi fasci di fili telegrafici e telefonici che parevano enormi ragnateli e un gran trepestio di gente, di cavalli, di carri. La testa gli si confondeva, credette quasi di rientrare a Buenos Aires e di dover cercare un'altra volta il cugino. Andò attorno per quasi un'ora, svoltando e risvoltando, e sembrandogli sempre di tornare alla medesima via, e a furia di domandare, trovò la casa del suo nuovo protettore. Tirò il campanello, s'affacciò alla porta un grosso uomo biondo arcigno che aveva l'aria ad un fattore e che gli domandò sgarbatamente con pronunzia straniera. Che vuoi? Il ragazzo disse il nome del padrone. Il padrone, rispose il fattore, è partito ieri sera per Buenos Aires con tutta la sua famiglia. Il ragazzo restò senza una parola, poi balbettò. Ma io non ho nessuno qui, sono solo, e porse il biglietto. Il fattore lo prese, lo lesse e disse burberamente. Non so che farci, glielo darò fra un mese quando ritornerà. Ma io, io son solo, io ho bisogno, esclamò il ragazzo con voce di preghiera. Eh, andiamo, disse l'altro. Non ce n'è ancora abbastanza della gramigna del tuo paese a Rosario. Vattene un po' a mendicare in Italia. E gli chiuse il cancello sulla faccia. Il ragazzo restò là come impietrato. Poi riprese lentamente la sua sacca ed uscì col cuore angosciato, con la mente intumulto, assalito a un tratto da mille pensieri affannosi. Che fare? Dove andare? Da Rosario a Cordova c'era una giornata di strada ferrata. Egli non aveva più che poche lire. Levato quello che gli occorreva di spendere quel giorno, non gli sarebbe rimasto quasi nulla. Dove trovare i denari per pagarsi il viaggio? Poteva lavorare. Ma come? A chi domandar lavoro? Chiederle lemosina? Ah no, essere rispinto, insultato, umiliato come poc'anzi. No, mai, mai più, piuttosto morire. E a quell'idea e al riveder davanti a sé la lunghissima via che si perdeva lontano nella pianura sconfinata, si sentì fuggire un'altra volta il coraggio. Gettò la sacca sul marciapiedi, vi sedette su con le spalle al muro e chinò il viso tra le mani senza pianto in un atteggiamento desolato. La gente l'urtava col piede, passando. I carri empivan la via di rumore. Alcuni ragazzi si fermarono a guardarlo. Egli rimase un pezzo così. Quando fu scosso da una voce che gli disse tra in italiano e in lombardo, che cos'hai ragazzetto? Alzò il viso a quelle parole e subito balzò in piedi gettando un'esclamazione di meraviglia. Voi qui! Era il vecchio contadino lombardo col quale aveva fatto amicizia nel viaggio. La meraviglia del contadino non fu minore della sua, ma il ragazzo non gli lasciò il tempo di interrogarlo e gli raccontò rapidamente i casi suoi. Ora son senza soldi, ecco, bisogna che lavori. Trovatemi voi del lavoro da poter mettere insieme qualche lira. Io faccio qualunque cosa, porto roba, spazzo le strade, posso far commissioni, anche lavorare in campagna. Mi contento di campare di pan nero, ma che possa partir presto, che posso trovare una volta mia madre. Fatemi questa carità del lavoro, trovatemi voi del lavoro, per amor di Dio, che non ne posso più. Diamine, diamine, disse il contadino guardandosi attorno e grattandosi il mento. Che storia è questa? Lavorare, è presto detto. Vediamo un po' che non ci sia il mezzo di trovare trenta lire fra tanti patriotti. Il ragazzo lo guardava, confortato da un raggio di speranza. Vieni con me, gli disse il contadino. Dove? Domandò il ragazzo ripigliando la sacca. Vieni con me. Il contadino si mosse. Marco lo seguì, fecero un lungo tratto di strada insieme, senza parlare. Il contadino si fermò alla porta di un'osteria che aveva per insegna una stella e scritto sotto la Estreglia d'Italia. Mise il viso dentro e voltandosi verso il ragazzo disse allegramente, arriviamo in buon punto. Entrarono in uno canzone dove erano varie tavole e molti uomini seduti che bevevano parlando forte. Il vecchio lombardo si avvicinò alla prima tavola e dal modo come salutò i sei avventori che ci stavano intorno, si capiva che era stato in loro compagnia fino a poco innanzi. Erano rossi in viso e facevano sonare i bicchieri vociando e ridendo. Camerati, disse senz'altro il lombardo, restando in piedi e rappresentando Marco. Qui c'è un povero ragazzo, nostro patriotta, che è venuto solo da Genova a Buenos Aires a cercare sua madre. A Buenos Aires gli dissero, qui non c'è, è a Cordova. Viene in barca a Rosario, tre dì e tre notti con due righe di raccomandazione, presenta la carta, fanno una figuraccia, non ha la croce d'un centesimo, è qui solo come un disperato, è un bagai pieno di cuore. Vediamo un poco, non ha da trovare tanto da pagare il biglietto per andare a Cordova a trovare sua madre? L'abbiamo da lasciare qui come un cane? Mai al mondo, per Dio, mai non sarà detto questo, gridarono tutti insieme battendo il pugno sul tavolo. Un patriotta nostro, vieni qua piccolino, ci siamo noi, gli emigranti. Guarda che bel monello, fuori dei quattrini camerati. Bravo, venuto solo, hai del fegato? Bevi un sorso, patriotta, ti manderemo da tua madre, non pensare. E uno gli dava un pizzicotto alla guancia, un altro gli batteva una mano sulla spalla, un terzo lo liberava dalla sacca, altri emigranti si alzarono dalle tavole vicine e si avvicinarono. La storia del ragazzo fece il giro dell'osteria. Accorsero dalla stanza accanto tre avventori argentini e in meno di dieci minuti il contadino lombardo che porgeva il cappello ci è dentro quarantadue lire. Hai visto, disse allora voltandosi verso il ragazzo, come si fa presto in America? Bevi, gli gridò un altro, porgendogli un bicchiere di vino. Alla salute di tua madre, tutti alzarono i bicchieri. E Marco ripeté, alla salute di mia, ma un singhiozzo di gioia gli chiuse la gola e rimesso il bicchiere sulla tavola, si gettò al collo del suo vecchio. La mattina seguente, allo spuntar del giorno, egli era già partito per Cordova, ardito e ridente, pieno di presentimenti felici. Ma non c'è allegrezza che regga a lungo davanti a certi aspetti sinistri della natura. Il tempo era chiuso e grigio, il treno, pressoché vuoto, correva attraverso a un'immensa pianura, priva ad ogni segno d'abitazione. Egli si trovava solo in un vagone lunghissimo che somigliava a quelli dei treni periferiti. Guardava a destra, guardava a sinistra, e non vedeva che una solitudine senza fine, sparsa di piccoli alberi deformi dai tronchi dai rami scontorti, in atteggiamenti non mai veduti, quasi di ira e d'angoscia. Una vegetazione scura, rada e trista, che dava alla pianura l'apparenza di uno sterminato cimitero. Sonnecchiava mezz'ora, tornava a guardare, era sempre lo stesso spettacolo. Le stazioni della strada ferrata erano solitarie, come case di eremiti, e quando il treno si fermava non si sentiva una voce, gli pareva di trovarsi solo in un treno, perduto, abbandonato in mezzo a un deserto. Gli sembrava che ogni stazione dovesse essere l'ultima, e che s'entrasse dopo quella nelle terre misteriose e spaurevoli dei selvaggi. Una brezza gelata gli mordeva il viso. Imbarcandolo a Genova sul finir d'aprile, i suoi non avevano pensato che in America egli avrebbe trovato l'inverno, e l'avevano vestito da estate. Dopo alcune ore, incominciò a soffrire il freddo, e col freddo la stanchezza dei giorni passati, pieni di commozioni violente e delle notti insonni e travagliate. Si addormentò, dormì lungo tempo, si svegliò intirizzito, si sentiva male, e allora gli prese un vago terrore di cadere malato e di morire per viaggio, ed esser buttato là in mezzo a quella pianura desolata, dove il suo cadavere sarebbe stato dilaniato dai cani e dagli uccelli di rapina, come certi corpi di cavalli e di vacche, che vedeva a tratto tratto accanto alla strada, e da cui torceva lo sguardo col ribrezzo. In quel malestere inquieto, in mezzo a quel silenzio tetro della natura, la sua immaginazione si eccitava, e volgeva al nero. Era poi ben sicuro di trovarla a Cordova, sua madre, e se non ci fosse stata, se quel signore di via delle arti avesse sbagliato, e se fosse morta. In questi pensieri si riaddormentò, sognò d'essere a Cordova di notte, e di sentirsi gridare da tutte le porte e da tutte le finestre, non c'è, non c'è, non c'è. Si risvegliò di sobbalzo, atterrito, e vide in fondo al vagone tre uomini barbuti, ravolti in scialli di vari colori che lo guardavano, parlando basso tra di loro, e gli balenò il sospetto che fossero assassini, e lo volessero uccidere per rubargli la sacca. Al freddo, al malessere gli si aggiunse la paura, la fantasia già turbata gli si stravolse, i tre uomini lo fissavano sempre, uno di essi si mosse verso di lui, allora egli smarrì la ragione, e correndo gli incontro con le braccia aperte, gridò, non ho nulla, sono un povero ragazzo, vengo dall'Italia, vuoi a cercare mia madre, son solo, non mi fate del male. Quelli capirono subito, ne ebbero pietà, lo carezzarono e lo racquetarono, dicendogli molte parole che non intendeva, e vedendo che batteva i denti dal freddo, gli misero addosso uno dei loro scialli, e lo fecero risedere perché dormisse, e si riaddormentò che imbruniva. Quando lo svegliarono, era a Cordova. Ah, che buon respiro tirò, con che impeto si cacciò fuori del vagone, domandò a un impiegato della stazione dove stesse di casa l'ingegner Mechines, quegli disse il nome d'una chiesa, la casa era accanto alla chiesa. Il ragazzo scappò via, era notte, entrò in città, e gli parve di entrare in rosario un'altra volta, al vedere quelle strade diritte, fiancheggiate di piccole case e banche, e tagliate da altre strade diritte e lunghissime. Ma c'era poca gente, e al chiarore dei rari lampioni, incontrava delle facce strane, d'un colore sconosciuto, tra il nerastro e verdognolo, e alzando il viso, a quando a quando, vedeva delle chiese d'architettura bizzarra che si disegnavano enormi e nere sul firmamento. La città era oscura e silenziosa, ma, dopo aver attraversato quell'immenso deserto, gli pareva allegra. Interrogò un prete, trovò presto la chiesa e la casa, tirò il campanello con una mano tremante e si premette l'altra sul petto per comprimere i battiti del cuore che gli saltava alla gola. Una vecchia venne ad aprire con un lume in mano. Il ragazzo non poté parlare subito. «Chi cerchi?» domandò quella in spagnuolo. «L'ingegnere Mechines», disse Barco. La vecchia fece l'atto di incrociare le braccia sul seno e rispose indolando il capo. «Anche tu, dunque, l'hai con l'ingegnere Mechines, e mi pare che sarebbe tempo di finirla. Son tre mesi oramai che ci seccano. Non basta che l'abbiano detto i giornali, bisognerà farlo stampare sulle cantonate che il signor Mechines è andato a stare a Tucuman». Il ragazzo fece un gesto di disperazione, poi diede in uno scoppio di rabbia. «È una maledizione, dunque. Io dovrò morire per la strada senza trovare mia madre. Io divento matto, ma mazzo. Dio mio, come si chiama quel paese? Dov'è? A che distanza è?» «Eh, povero ragazzo», rispose la vecchia impietosita. «Una bagatella. Saranno quattrocento o cinquecento miglia, ammetter poco». Il ragazzo si coprì il viso con le mani, poi domandò con un singhiozzo. «E ora, come faccio?» «Che vuoi che ti dica, povero figliuolo?» rispose la donna. «Io non so». Ma subito le balenò un'idea e soggiunse in fretta. «Senti, ora che ci penso, fa una cosa. Svolta a destra per la via, troverai alla terza porta un cortile. C'è un capataz, un commerciante che parte domattina per Tucuman con le sue carretas e i suoi bovi. Va a vedere se ti vuol prendere, offrendogli i tuoi servizi. Ti darà forse un posto su un carro. Va subito». Il ragazzo afferrò la sacca, ringraziò, scappando, e dopo due minuti si trovò in un vasto cortile rischiarato da lanterne, dove vari uomini lavoravano a caricare sacchi di frumento sopra certi carri enormi, simili a case mobili da saltimbanchi col tetto rotondo e le ruote altissime, ed un uomo, alto e baffuto, avvolto in una specie di mantello a quadretti bianchi e neri, con due grandi stivali, dirigeva il lavoro. Il ragazzo si avvicinò a questo, gli fece timidamente la sua domanda, dicendo che veniva dall'Italia e che andava a cercare sua madre. Il capataz, che vuol dire capo, il capoconduttore di quel convoglio di carri, gli diede un'occhiata da capo a piedi e rispose seccamente. «Non ci ho posto. Io ho quindici lire», rispose il ragazzo supplichevole. «Do le mie quindici lire. Per viaggio lavorerò. Andrò a pigliare l'acqua e la biada per le bestie. Farò tutti i servizi. Un poco di pane mi basta. Mi faccio un po' di posto, signore». Il capataz tornò a guardarlo e rispose con miglior garbo. «Non c'è posto. E poi noi non andiamo a Tucuman. Andiamo a un'altra città, Santiago dell'Estero». «E a un certo punto ti dovremmo lasciare. Avresti ancora un gran tratto da fare a piedi». «Ah, io ne farei il doppio», esclamò Marco. «Io camminerò, non ci pensi. Arriverò in ogni maniera. Mi faccia un po' di posto, signore, per carità, per carità. Non mi lasci qui solo. Bada che è un viaggio di venti giorni. Non importa. È un viaggio duro. Sopporterò tutto. Dovrai viaggiare solo. Non ho paura di nulla. Purché ritrovi mia madre, abbia compassione». Il capataz gli accostò al viso una lanterna e lo guardò. Poi disse «Sta bene». Il ragazzo gli baciò la mano. «Stanotte dormirai in un carro», soggiunse il capataz lasciandolo. «Domattina alle quattro ti sveglierò. Buonas noces». La mattina alle quattro, al lume delle stelle, la lunga fila dei carri si mise in movimento con grande strepito, ciascun carro tirato da sei bovi, seguiti tutti da un gran numero di animali di ricambio. Il ragazzo, svegliato e messo dentro a un dei carri sui sacchi, si riaddormentò subito, profondamente. Quando si svegliò, il convoglio era fermo in un luogo solitario sotto il sole. E tutti gli uomini, i peones, stavano seduti in cerchio intorno a un quarto di vitello che arrostiva all'aria aperta, infilato in una specie di spadone, piantato in terra accanto a un gran fuoco agitato dal vento. Mangiarono tutti insieme, dormirono e poi ripartirono. E così il viaggio continuò regolato come una marcia di soldati. Ogni mattina si mettevano in cammino alle cinque, si fermavano alle nove, ripartivano alle cinque della sera, tornavano a fermarsi alle dieci. I peones andavano a cavallo e stimolavano i buoi con lunghe canne. Il ragazzo accendeva il fuoco per l'arrosto, dava da mangiare alle bestie, ripuliva le lanterne, portava l'acqua da bere. Il paese gli passava davanti come una visione indistinta, vasti boschi di piccoli alberi bruni, villaggi di poche case sparse con le facciate rosse e merlate, vastissimi spazi, forse antichi letti di grandi laghi salati, biancheggianti di sale fin dove arrivava la vista, ed ogni parte è sempre pianura, solitudine, silenzio. Rarissimamente incontravano due o tre viaggiatori a cavallo, seguiti da un branco di cavalli sciolti che passavano di galoppo come un turbine. I giorni erano tutti uguali come sul mare, uggiosi e interminabili, ma il tempo era bello, se non che i peones, come se il ragazzo fosse stato il loro servitore obbligato, diventavano di giorno in giorno più esigenti. Alcuni lo trattavano brutalmente, con minacce, tutti si facevano servire senza riguardi, gli facevano portare carichi enormi di forgi, lo mandavano a piaracqua a grandi distanze, ed egli, rotto dalla fatica, non poteva nemmen dormire la notte, scosso continuamente dai sobbalzi violenti del carro e dallo scricchiolio assordante delle ruote delle sale di legno. E per giunta, essendosi levato il vento, una terra fina, rossiccia e grassa, che avvolgeva ogni cosa, penetrava nel carro, gli entrava sotto i panni, gli empiva gli occhi e la bocca, gli toglieva la vista e il respiro, continua, opprimente, insopportabile, sfinito dalle fatiche e dall'insonnia, ridotto l'acero e sudicio, rimbrottato e malmenato dalla mattina alla sera, il povero ragazzo s'avviliva ogni giorno di più, e si sarebbe perduto d'animo affatto se il capataz non gli avesse rivolto di tratto in tratto qualche buona parola. Spesso in un cantuccio del carro non veduto piangeva col viso contro la sua sacca la quale non conteneva più che dei cenci. Ogni mattina si levava più debole e più scoraggiato, e guardando la campagna, vedendo sempre quella pianura sconfinata e incabile, come un oceano di terra diceva fra sé, oh, fino a questa sera non arrivo, fino a questa sera non arrivo, quest'oggi muoio per strada, e le fatiche crescevano, i mali trattamenti raddoppiavano. Una mattina, perché aveva ardato a portare l'acqua in assenza del capataz, uno degli uomini lo percosse, e allora cominciarono a farlo per vezzo, quando gli davano un ordine a misurargli uno scapaccione dicendo, insacca questo, vagabondo, porta questo a tua madre. Il cuore gli scoppiava, ammalò, stette tre giorni nel carro con una coperta addosso, battendo la febbre e non vedendo nessuno fuori che il capataz, che veniva a dargli da bere e a toccargli il polso, e allora si credette perduto, e invocava disperatamente sua madre, chiamandola cento volte per nome, oh mia madre, madre mia, aiuti, vienmi incontro che muoio, oh povera madre mia che non ti vedrò mai più, povera madre mia che mi troverai morto per la strada, e giungeva le mani sul petto e pregava. Poi migliorò, grazie alle cure del capataz, e guì, ma con la guarigione sopraggiunse il giorno più terribile del suo viaggio, il giorno in cui doveva rimanere solo. Da più di due settimane erano in cammino, quando arrivarono al punto dove la strada di Tucuman si stacca da quella che va a Santoro dall'estero, il capataz gli annunciò che dovevano separarsi. Gli diede qualche indicazione intorno al cammino, gli legò la sacca sulle spalle, in modo che non gli desse noia a camminare tagliando corto, come se temesse di commuoversi, lo salutò. Il ragazzo fece a pen tempo baciargli un braccio, anche gli altri uomini che lo avevano maltrattato così duramente, parve che provassero un po' di pietà a vederlo rimanere così solo, e gli fecero un cenno d'addio allontanandosi, ed egli restituì il saluto con la mano, stette a guardare il convoglio finché si perdette nel polverio rosso della campagna, e poi si mise in cammino tristemente. Una cosa, peraltro, lo riconfortò un poco fin da principio. Dopo tanti giorni di viaggio attraverso a quella pianura sterminata è sempre uguale, egli vedeva davanti a sé una catena di montagne altissime, azzurre, con le cime banche che gli rammentavano le Alpi, e gli davan come un senso di ravvicinamento al suo paese. Erano le Ande, la spina dorsale del continente americano, la catena immensa che si stende dalla terra del fuoco fino al mare glaciale del polo artico per cento e dieci gradi di latitudine. Ed anche lo confortava il sentire che l'aria si veniva facendo sempre più calda, e questo avveniva perché, risalendo verso Settentrione, egli si andava avvicinando alle regioni tropicali. A grandi distanze trovava dei piccoli gruppi di case con una botteguccia e comprava qualche cosa da mangiare. Incontrava gli uomini a cavallo, vedeva ogni tanto delle donne e dei ragazzi seduti in terra, immobili e gravi, delle facce nuove affatto per lui, color di terra, con gli occhi obliqui, con l'ossa delle guance sporgenti, quali lo guardavano fisso e lo accompagnavano con lo sguardo, girando il capo lentamente come automi. Erano indiani. Il primo giorno camminò finché gli ressero le forze e dormì sotto un albero. Il secondo giorno camminò a seno e con minor animo. Aveva le scarpe rotte, i piedi spellati, lo stomaco indebolito dalla cattiva nutrizione. Verso sera si incominciava a impaurire. Aveva inteso dire in Italia che in quei paesi c'erano dei serpenti. Credeva di sentirli strisciare. S'arrestava, pigliava la corsa, gli correvano dei brividi nelle ossa. A volte lo prendeva una grande compassione di sé e piangeva in silenzio, camminando. Poi pensava, oh quanto soffrirebbe mia madre se sapesse che ho tanta paura, e questo pensiero gli ridava coraggio. Poi, per distrarsi dalla paura, pensava a tan cose di lei. Si richiamava alla mente le sue parole di quando era partita da Genova e l'atto con cui soleva accomodargli le coperte sotto il momento quando era a letto e quando era bambino, che alle volte se lo pigliava fra le braccia dicendogli, sta un po' qui con me. E stava così, molto tempo, col capo appoggiato sul suo, pensando, pensando. E le diva tra sé, ti rivedrò un giorno, cara madre. Arriverò alla fine del mio viaggio, madre mia. E camminava, camminava in mezzo ad alberi sconosciuti, a vaste piantagioni di canna da zucchero, a praterie senza fine, sempre con quelle grandi montagne azzurre davanti che tagliavano il cielo sereno, coi loro altissimi coni. Quattro giorni, cinque, una settimana passò. Le forze gli andavano rapidamente scemando, i piedi gli sanguinavano. Finalmente, una sera, al cadere del sole, gli dissero, Tucuman è a cinque miglia di qui. Egli gittò un grido di gioia, e a frettipasso, come se avesse riquistato in un punto tutto il vigore perduto. Ma fu una breve illusione. Le forze lo abbandonarono a un tratto, e cadde sull'orlo d'un fosso sfinito. Ma il cuore gli batteva dalla contentezza. Il cielo, fitto di stelle splendidissime, non gli era mai parso così bello. Egli le contemplava, adagiato sull'erba per dormire, e pensava che forse nello stesso tempo anche sua madre le guardava e diceva, «Oh madre mia, dove sei? Che cosa fai in questo momento? Pensi al tuo figliuolo? Pensi al tuo Marco che ti è tanto vicino?» Povero Marco, se gli avesse potuto vedere in quale stato si trovava sua madre in quel punto, avrebbe fatto uno sforzo disumano per camminare ancora e arrivare da lei qualche ora prima. Era malata, a letto, in una camera a terreno d'una casetta signorile dove abitava tutta la famiglia Mechines, la quale le aveva posto molto affetto e le faceva grande assistenza. La povera donna era già malaticcia quando l'ingegnere Mechines aveva dovuto partire improvvisamente da Buenos Aires e non si era appunto rimessa con la buonaria di Cordova, ma poi, il non aver più ricevuto risposta alle sue lettere né dal marito né dal cugino, il presentimento sempre vivo di qualche grande disgrazia, l'ansietà continua in cui era vissuta, incerta tra il partire e il restare, aspettando ogni giorno una notizia funesta, l'avevano fatta peggiorare fuori di modo. Da ultimo le si era manifestata una malattia gravissima, un'ernia intestinale strozzata. Da quindici giorni non si alzava dal letto, era necessaria un'operazione chirurgica per salvarle la vita e in quel momento appunto mentre il suo Marco la invocava, stavano accanto al suo letto il padrone e la padrona di casa, a ragionarla con molta dolcezza perché si lasciasse operare ed essa persisteva nel rifiuto piangendo. Un bravo medico di Tucuman era già venuto la settimana prima inutilmente. No, cari signori, essa diceva, non mette conto, non ho più forza di resistere, morirei sotto i ferri del chirurgo, è meglio che mi lasci non morire così, non ci tengo più alla vita ormai, tutto è finito per me, è meglio che muoia prima di sapere cos'è accaduto alla mia famiglia. I padroni a dirle di no, che si facesse coraggio, che alle ultime lettere mandate a Genova direttamente avrebbe ricevuto risposta, che si lasciasse operare, che lo facesse per i suoi figlioli, ma quel pensiero dei suoi figlioli non faceva che aggravare di maggiore angoscia lo scoraggiamento profondo che la prostrava da lungo tempo. A quelle parole scoppiava in pianto, oh i miei figlioli, i miei figlioli, esclamava aggiungendo le mani, forse non ci sono più, è meglio che muoia anch'io, li ringrazio, buoni signori, li ringrazio di cuore, ma è meglio che muoia, tanto non guarirei neanche con l'operazione, ne sono sicura, grazie di tante cure, buoni signori, è inutile che dopo domani torni il medico, è destino che io muoia qui, ho deciso. E quelli, ancora a consolarla e a ripeterle, no, non dite questo, e a pigliarla per le mani e a pregarla, ma essa allora chiudeva gli occhi, sfinita, e cadeva in un assopimento che pareva morta, e i padroni restavano lì un po' di tempo alla luce fioca ad un lumicino, a guardare con grande pietà quella madre ammirabile che per salvare la sua famiglia era venuta a morire a 6.000 miglia dalla sua patria, a morire dopo aver tanto penato, povera donna così onesta, così buona, così sventurata. Il giorno dopo, un mattino, con la sua sacca sulle spalle, curvo e zoppicante, ma a pieno animo, Marco entrava nella città di Tucuman, una delle più giovani e le più floride città della Repubblica Argentina. Gli parve di rivedere Cordova, Rosario, Buenos Aires, erano quelle stesse diritte lunghissime, quelle case basse e bianche, ma da ogni parte una vegetazione nuova e magnifica, un'aria profonda, una luce meravigliosa, un cielo limpido e profondo, come egli non l'aveva mai visto neppure in Italia. Andando innanzi per le vie, riprovò l'agitazione febbrile che lo aveva preso a Buenos Aires. Guardava le finestre e le porte di tutte le case, guardava tutte le donne che passavano con una speranza affannosa di incontrare sua madre, avrebbe voluto interrogar tutti e non osava fermar nessuno. Tutti di sugli usci si voltavano a guardare quel povero ragazzo stracciato e polveroso che mostrava di venire di tanto lontano ed egli cercava fra la gente un viso che gli ispirasse fiducia per rivolgergli quella tremenda domanda quando gli caddero gli occhi sopra un'insegna di bottega su cui c'era scritto un nome italiano. C'era dentro un uomo con gli occhiali e due donne, egli si avvicinò lentamente alla porta e fatto un animo risoluto domandò, mi saprebbe dire signore dove sta la famiglia Mechines? Dell'ingegnero Mechines? domandò il bottegaio alla sua volta. Dell'ingegnere Mechines? rispose il ragazzo con un fil di voce. La famiglia Mechines? disse il bottegaio non è a Tucuman. Un grido di disperato dolore come d'una persona pugnalata fece eco a quelle parole. Un grido di disperato dolore come d'una persona pugnalata fece eco a quelle parole. Il bottegaio e le donne salzarono, alcuni vicini accorsero. Che c'è? Che hai ragazzo? disse il bottegaio tirandolo nella bottega e facendolo scendere. Non c'è da disperarsi? Che diavolo? i Mechines non sono qui, ma poco lontano, a poche ore da Tucuman. Dove? Dove? gridò Marco saltando su come un risuscitato. A una quindicina di miglia di qua, continuò l'uomo. In riva al Saladiglio, in un luogo dove stanno costruendo una grande fabbrica da zucchero. Un gruppo di case, c'è la signora del signor Mechines. Tutti lo sanno. Ci arriverà in poche ore. Ci sono stato io un mese fa, disse un giovane che era corso al grido. Marco lo guardò con gli occhi grandi e gli domandò precipitosamente impallidendo. Avete visto la donna di servizio del signor Mechines, l'italiana? La Genovesa? L'ho vista. Marco ruppe in un signozzo convulso tra di riso e di pianto, poi con un impeto di risoluzione violenta. Dove si passa? Presto. La strada. Parto subito. insegnatemi la strada. Ma c'è una giornata di marcia? Gli dissero tutti insieme. Sei stanco, devi riposare. Partirai domattina? Impossibile. Impossibile, rispose il ragazzo. Ditemi dove si passa. Non aspetto più un momento. Parto subito. Dovessi morire per via. Visto lo irremovibile, non sopposero più. Dio t'accompagni, gli dissero. Vada alla via per la foresta. Buon viaggio italianito. Un uomo l'accompagnò fuori di città, gli indicò il cammino, gli diede qualche consiglio e stette a vederlo partire. In capo, a pochi minuti, il ragazzo scomparve, soppicando con la sua sacca sulle palle, dietro gli alberi folti che fiancheggiavano la strada. Quella notte fu tremenda per la povera inferma. Essa aveva dei dolori atroci che le strappavano degli urli da repersi le vene e le davano dei momenti di delirio. Le donne che l'assistevano perdevano la testa. La padrona accorreva di tratto in tratto, sgomentata. Tutti cominciarono a temere che, se anche si fosse decisa a lasciarsi operare, il medico che doveva venire la mattina dopo sarebbe arrivato troppo tardi. Nei momenti che non delirava, però, si capiva che il suo più terribile strazio non erano i dolori del corpo, ma il pensiero della sua famiglia lontana. Smorta, disfatta, col viso mutato, si cacciava le mani nei capelli con un atto di disperazione che passava l'anima e gridava, Dio mio, Dio mio, morire tanto lontana, morire senza rivederli, i miei poveri figlioli che rimangono senza madre, le mie creature, il povero sangue mio, il mio Marco, che ancora così piccolo, alto così, tanto buono e affettuoso. Voi non sapete che ragazzo era, signora, se sapesse. Non me lo potevo staccare dal colo quando sono partita, si inghiozzava da far compassione, si inghiozzava. Pareva che lo sapesse, che non avrebbe mai più rivisto sua madre, povero Marco, povero bambino mio. Credevo che scoppiasse il cuore. Ah, se fossi morta, allora morta, mentre mi diceva Dio, morta, fulminata fossi, senza madre, povero bambino, lui che mamava tanto, che aveva tanto bisogno di me, senza madre, nella miseria dovrà andare accattando lui, Marco, Marco mio, che tenderà la mano, affamato, oh Dio eterno, no, non voglio morire, il medico, chiamatelo subito, venga, mi tagli, mi squarci il seno, mi facci pazzire, ma mi salvi la vita, voglio guarire, voglio vivere, partire, fuggire, domani, subito, il medico, aiuto, aiuto. E le donne la afferravano le mani, la palpavano pregando, la facevano tornare in sé a poco a poco, le parlavano di Dio e di speranza, e allora essa ricadeva in un abbattimento mortale, piangeva con le mani nei capelli grigi, gemeva come una bambina, mettendo un lamento prolungato e mormorando di tratto in tratto, oh, la mia Genova, la mia casa, tutto quel mare, oh Marco mio, il mio povero Marco, dove sarà ora la povera creatura mia? Era mezzanotte, e il suo povero Marco, dopo aver passato molte ore sulla sponda ad un fosso, stremato di forze, camminava allora verso a una foresta vastissima di alberi giganteschi, mostri della vegetazione, dai fusti smisurati, simili a pilastri di cattedrali, che si intrecciavano una lezza vertiginosa, le loro enormi chiomi inargentate dalla luna. Vagamente, in quella mezza oscurità, egli vedeva miriadi di tronchi di tutte le forme, ritti, inclinati, scontorti, incrociati, in atteggiamenti strani di minacce e di lotta, alcuni rovesciati a terra, come torri ricadute, tutte d'un pezzo, e coperti d'una vegetazione fitta e confusa, che pareva una folla furente, che se li disputasse a palmo a palmo, altri raccolti in grandi gruppi verticali e serrati come fasce di lance titaniche, di cui la punta toccasse le nubi, una grandezza superba, disordine prodigioso di forme colossali, lo spettacolo più maestosamente terribile che gli avesse mai offerto la natura vegetale. A momenti lo prendeva un grande stupore, ma subito l'anima sua si rilanciava verso sua madre, ed era sfinito, coi piedi facevano sangue, solo in mezzo a quella formidabile foresta, dove non vedeva che a lunghi intervalli delle piccole abitazioni umane, che ai piedi di quegli alberi parevano nidi di formiche, e qualche bufalo addormentato lungo la via, era sfinito, ma non sentiva la stanchezza, era solo, e non aveva paura. La grandezza della foresta ingrandiva l'anima sua, la vicinanza di sua madre gli dava la forza e la baldanza ad un uomo, la ricordanza dell'oceano, degli sgomenti, dei loro risofferti e vinti, delle fatiche durate, della ferrea costanza siata gli facevano alzare la fronte, tutto il suo forte e nobile sangue genovese gli rifluiva al cuore in un'onda ardente d'alterezza e d'audacia. E una cosa nuova seguiva in lui, che mentre fino allora aveva portata nella mente un'immagine della madre, oscurata e sbiadita un poco da quei due anni di lontananza, in quei momenti quell'immagine gli si chiariva, egli rivedeva il suo viso intero e netto come da lungo tempo non l'aveva mai visto più, lo rivedeva vicino, illuminato, parlante, rivedeva i momenti più sfuggevi dei suoi occhi e delle sue labbra, tutti i suoi atteggiamenti, tutti i suoi gesti, tutte le ombre dei suoi pensieri, e sospinto da quei ricordi incassanti, affrettava il passo, e un nuovo affetto, una tenerezza indicibile gli cresceva, gli cresceva nel cuore, facendogli correre giù per il viso delle lacrime dolci e quiete, e andando avanti nelle tenebre le parlava, le diceva le parole che le avrebbe mormorate all'orecchio tra poco, son qui, madre mia, eccomi qui, non ti lascerò mai più, torneremo a casa insieme, e io ti sarò sempre accanto sul bastimento, stretto a te, e nessuno mi staccherà mai più da te, nessuno, mai più, in che avrai vita, e non si accorgeva intanto che sulle cime degli alberi giganteschi andava morendo la luce argentina della luna nella bianchezza delicata dell'alba. Alle otto di quella mattina il medico di Tucuman, un giovane argentino, era già a letto della malata in compagnia ad un assistente a tentare per l'ultima volta di persuaderla a lasciarsi operare, e con lui ripetevano le più calde istanze, l'ingegnere McInnes e la sua signora, ma tutto era inutile. La donna, sentendosi esausta di forze, non aveva più fede nell'operazione, essa era certissima o di morire sull'atto o di non sopravvivere che poche ore, dopo aver sofferto in vano dei dolori più atroci di quelli che la dovevano uccidere naturalmente. Il medico badava a ridirle, ma l'operazione è sicura, ma la vostra salvezza è certa, purché ci mettiate un po' di coraggio, ed è ugualmente certa la vostra morte se vi rifiutate. Eran parole buttate via. No, essa rispondeva con la voce fioca, ho ancora coraggio per morire, ma non ne ho più per soffrire inutilmente. Grazie, signor dottore, è destinato così, mi lasci morir tranquilla. Il medico, scoraggiato, desistette. Nessuno parlò più. Allora la donna voltò il viso verso la padrona e le fece con voce di moribonda le sue ultime piere. Cara, buona signora, disse a gran fatica singhiozzando, lei manderà quei pochi denari e le mie povere robe alla mia famiglia per mezzo del signor console. Io spero che sian tutti vivi. Il cuore mi predice bene in questi ultimi momenti. Mi farà la grazia di scrivere che ho sempre pensato a loro, che ho sempre lavorato per loro, per i miei figliuoli, e che il mio solo dolore fu di non rivederli più, ma che son morta con coraggio, rassegnata, benedicendoli, e che raccomando a mio marito e al mio figliuolo maggiore il più piccolo, il mio povero Marco, che l'ho avuto in cuore fino all'ultimo momento. Ed esaltandosi, tutta un tratto, gridò, giungendo le mani, il mio Marco, il mio bambino, la mia vita. Ma girando gli occhi pieni di pianto, vide che la padrona non c'era più. Erano venuti a chiamarla furtivamente. Cercò il cuore, era sparito. Non restavano più che le due infermiere e l'assistente. Si sentiva nella stanza vicina un rumore affrettato di passi, un mormorio di voci rapide e sommesse, ed esclamazioni rattenute. La malata fissò sull'uscio gli occhi velati, aspettando. Dopo alcuni minuti vide e compare il medico con un viso insolito, poi la padrona e il padrone, anch'essi col viso alterato. Tutti e tre la guardarono con un'espressione singolare e si scambiarono alcune parole a voce bassa. Le parve che il medico dicesse alla signora meglio subito. La malata non capiva. Josefa, le disse la padrona con la voce tremante, ho una buona notizia da darvi. Preparate il cuore a una buona notizia. La donna la guardò attentamente. Una notizia, continuò la signora sempre più agitata, che vi darà una grande gioia. Lata dilatò gli occhi. Preparatevi, proseguì la padrona, a vedere una persona a cui volete molto bene. La donna alzò il capo con uno scatto vigoroso e cominciò a guardare rapidamente. Ora la signora, ora l'uscio con gli occhi sfolgoranti. Una persona, soggiunse la signora impallidendo, arrivata orora, inaspettatamente. Chi è? gridò la donna con voce strozzata e strana, come di persona spaventata. Un istante dopo gittò un grido altissimo, balzando a sedere sul letto rimane immobile, con gli occhi spalancati e con le mani alle tempie come davanti a un'apparizione sovrumana. Marco, l'acero e polveroso, era là, dritto sulla soglia, trattenuto per un braccio dal dottore. La donna urlò tre volte. Dio, Dio, Dio mio! E Marco si slanciò avanti. Essa protese le braccia scarne, e serrandolo al seno con la forza di una tigre, scoppiò in un riso violento, rotto da profondi singhiozzi senza lacrime, che la fecero ricadere soffocata sul cuscino. Ma si riprese subito, e gridò pazza di gioia, tempestandogli il cavo di baci. Come sei qui? Perché? Sei tu? Come sei cresciuto? Chi t'ha condotto? Sei solo? Non sei malato? Sei tu, Marco? Non è un sogno, Dio mio, parlami? Poi, cambiando tono, improvvisamente, no, taci, aspetta. E voltandosi verso il medico, a precipizio. Presto, subito, dottore, voglio guarire. Son pronta. Non perda un momento. Conducete via Marco, che non senta. Marco mio, non è nulla. Mi racconterai. Ancora un bacio. Va, eccomi qui, dottore. Marco fu portato via. I padroni e le donne uscirono in fretta. Rimasero il chirurgo e l'assistente che chiusero la porta. Il signor McInnes tentò di tirar Marco in una stanza lontana, ma fu impossibile. Egli parea inchiodato al pavimento. Cosa c'è? Domandò. Che cos'ha mia madre? Cosa le fanno? E allora il McInnes, piano, tentando sempre di condurlo via. Ecco, senti, ora ti dirò. Madre è malata. Bisogna farle una piccola operazione. Ti spiegherò tutto. Vieni con me. No, rispose il ragazzo impuntandosi. Voglio star qui. Mi spieghi qui. L'ingegnere ammontava parole su parole. Tirandolo, il ragazzo cominciava a spaventarsi e a tremare. A un tratto, un grido acutissimo, come il grido di un ferito a morte risonò in tutta la casa. Il ragazzo rispose con un altro grido disperato. Mia madre è morta. Il medico comparve sull'uscio e disse. Tua madre è salva. Il ragazzo lo guardò un momento, poi si gettò ai suoi piedi, si inghiozzando. Grazie, dottore. Ma il dottore lo rialzò ad un gesto, dicendo levati, sei tu, eroico fanciullo, che hai salvato tua madre.